A girare le scuole in questi giorni in una scuola di Ancona Vuole che mi sieda? Sì, dai, prima della pubblicità Scusami, chiedo scusa a Cairo Ma andiamo tra qualche minuto la pubblicità Prego, ministra Non è difficile, come vedete, sedersi e lavorare Tra l'altro Io ti ho avuto qualche difficoltà Passerei un po' più Sì, un po' più Va bene Io sono più abituata a stare Ma scusi, se uno ha i rocci Ha presente il vocabolario greco Non c'entra qua Non c'entra i rocci qui Sì, i rocci ci sientra Ma voi siete malpensanti proprio Ma lei faceva le versioni a memoria senza neanche quella del vocabolario Perché era secchiora Va bene, pubblicità Torniamo tra poco a Lattebiosas, vivi nascosto Andiamo tra poco